E alla ripresa degli allenamenti qui al Pala del Mauro è stata una festa. Quasi 300 i tifosi che sono arrivati al Pala del Mauro per festeggiare la scandone reduce dalla Final 8 di Coppa Italia dove ha conquistato il secondo posto. Tanti i supporters presenti che hanno intonato canti e cori per la squadra invitandola a continuare su questa strada. Una strada che deve portare verso i play-off alla conquista di una post-season alla quale i giocatori, allenatore e staff tecnico credono. Credono e soprattutto per costruire un futuro che possa essere solito e possa permettere alla scandone di rimanere al vertice della palla a canestro italiana. Una scandone che si sa con il secondo posto ottenuto alla Final 8 di Coppa Italia parteciperà la prossima estate a settembre alla Supercoppa Italiana ma prima di allora ci sarà da decidere anche quello che sarà il futuro di coach Sacripanti e Nicola Alberani. Il proprietario della Silicas, Gianandrea De Cesare, ha parlato di possibile conferma una conferma che sicuramente i due professionisti meritano e meritano di conquistare assieme a Vellino i play-off.